salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio della serie di sopravvivenza in versione serale what the fuck che cosa c'è qui sotto non ne ho idea non lo voglio sapere per il momento comunque sia a parte il l'accesso agli inferi qui sotto sorvegliato da una pecora anzi due pecore parliamo del progetto di oggi allora come sapete nello scorso episodio abbiamo iniziato la costruzione o meglio abbiamo raccolto i materiali per la costruzione del primo della prima struttura a tema infinity war il film l'ultimo film degli avengers uscito che mi ha intrippato un botto e fra l'altro avrete notato che questo episodio allora innanzitutto prima di iniziare a cianciare come al mio solito vi faccio vedere che lì oggi ho iniziato a costruire la circonferenza ma comunque vi volevo dire che come sicuramente avrete notato questo episodio sta uscendo alle 18 e non invece alle 15 o alle 14 come faccio solitamente questo perché alle 15 o alle 14 adesso non so bene però probabilmente alle 14 vi ho caricato un altro video di una serie che non so se state seguendo perché purtroppo il primo episodio sto recando questo video lunedì sera e appunto quest'oggi di pomeriggio ha caricato il primo episodio di questa nuova serie che si tratta di un cioè questa serie tratta un videogame un videogioco per la ps4 che si chiama beyond two souls è un gioco molto figo che purtroppo però apparentemente non è stato seguito cioè il primo episodio è andato piuttosto maluccio quindi nel caso sappiate che oggi alle 14 è uscito il secondo video il secondo episodio quindi magari dategli una possibilità so che non è minecraft quindi probabilmente sarà una serie un pochino più di nicchia però ci tengo che provate a guardarla perché fidatevi che è qualcosa di veramente molto ma molto figo e fra l'altro casca fagiolo vis a casca fagiolo sentite che terminologia visto che è da poco uscito anche tipo detroit become human che magari porterò più avanti non lo so comunque sia comunque come potete vedere questo è come ho realizzato l'anello all'inizio volevo farlo molto più grande infatti volevo anche chiedere aiuto a qualche altro ragazzo della bio però cioè sfruttando il fatto che siamo in un server no e fra l'altro vi ricordo che questo server è o stat da nitrado quindi in descrizione trovate come al solito il link in cui potete acquistare pure voi un server fichissimo e ragazzi questi server sono pazzeschi lo dico sempre ma sono veramente pazzeschi non laggano mai wow micidiale comunque sia volevo appunto chiedere una mano a qualcun altro per fare il cerchio ancora più grande magari almeno il doppio più grande però col fatto che la scuola ci sta uccidendo un po tutti ho detto vabbè dai facciamo così faccio per conto mio e evito di disturbare gli altri che stanno studiando giustamente non che io non stia studiando però ci siamo capiti insomma banda alle ciance ciance alle bande questa qui è la struttura che ho realizzato però adesso logicamente dobbiamo andare a ingrandirla prima di tutto direi di fargli un secondo strato cioè tipo almeno sdoppiarla se non triplicarla come spessore e in realtà non so neanche bene come vedete nello scorso episodio come gestirmela perché nel film infinity war appare come una struttura molto complessa molto dettagliata con un sacco di meccanismi e cose del genere solo che logicamente io non posso riprodurre una cosa di questo tipo in minecraft soprattutto in sopravvivenza a parte il fatto della dimensione che qui è decisamente in scala ridotta perché se voi avete visto il film ma comunque anche se non l'avete visto non è un grosso spoiler praticamente quell'anello è accessibile cioè all'interno ci puoi effettivamente entrare perché ci sono delle cose in cui non vado oltre vediamo se riesco tipo a piazzare in maniera tattica questo blocco tipo no il razzetto ma il blocco di terra ok però appunto io posso effettivamente entrare dentro quest'anello quindi vorrebbe dire fare una parete tale che riesco addirittura ad entrarci e sappiate che nel film adesso non so se voi che siete guardando questo video avete visto il film però sappiate che per coloro che appunto non hanno visto che questo anello all'interno ha uno spazio veramente gigantesco e quindi non sarei in grado assolutamente di riproporre una struttura del genere in sopravvivenza magari in una situazione con la creative sì però qui la vedo parecchio dura ok con uno stack circa ho concluso un anello cioè un anello un giro dell'anello la cosa mi inquieta assai ragazzi perché potrebbe richiedere più materiale di quello che mi aspetto che poi fra l'altro adesso io sto utilizzando il pietrisco ma poi voglio andare a integrare utilizzando anche tipo il nether brick che per quanto mi riguarda sono neri perché sto utilizzando la texture di b double o ecco me lo chiedete sempre questa cosa ve lo dico nuovamente nei video della survival utilizzo la texture dello youtuber americano b double o se andate sul suo canale lo trovate cioè trovate il link per scaricarvi la texture solo che non è aggiornatissima questo perché io ho aggiunto dei dettagli aggiunti appunto per conto mio cioè li ho fatti io alcune texture le ho proprio create dal nulla quindi sappiate che sul canale di b double o comunque trovate una versione della texture ma è la sua è praticamente identica ragazzi però cambia qualcosina ad ogni modo cerchiamo di buildare in maniera tattica ed efficace senza precipitare di sotto che fra l'altro mentre cercavo di fare questo anello perché mi sono ostinato a volerlo costruire per conto mio senza utilizzare un software o altro per creare questo anello circolare perché sapete che esistono tipo dei siti in cui tu puoi progettare una pixel art e poi andare a riprodurre pixel per pixel facendo corrispondere un pixel a un blocco però io questa cosa qui non l'ho voluta fare ho voluto fare di testa mia come al solito a questo punto direi di andare ad aggiungere un po di particolari utilizzando il ferro innanzitutto direi che una circonferenza più interna scura ci potrebbe stare bene però appunto per il fatto di essermi ostinato a voler fare per conto mio diciamo ci ho messo una vita e ho continuato anche a precipitare di sotto in maniera molto molto poco decorosa ecco è figo il fatto che il ferro abbia questa colorazione nera perché in questo modo posso andare ad abbinarla ad abbinare il ferro ad abbinarla la colorazione però ad abbinarlo il blocco vabbè comunque sia posso andare ad abbinare usemo il verbo generico per bene il blocco alla netherrack netherrack what ai blocchi di netherrack ovvero i nether brick mi sono fatto malissimo ma ho quasi finito poi non vedo l'ora che arrivi la 1.13 come al solito ormai lo dico in ogni puntata ormai è una meme praticamente anche per il fatto che aggiungeranno la possibilità di mettere tutti quanti i bricks dell'oceano com'è che si chiamano i prismarine bricks perché mi è venuta in mente questa idea fichissima che non vedo l'ora di realizzare però mi serve assolutamente questo tipo di blocco molto bene a questo punto sta anche scendendo la notte la cosa non è molto incoraggiante però quello che posso andare a fare è utilizzare dove sono ecco ce l'avevo già nell'inventario lol posso andare a utilizzare i netherrack in versione scala per raggiungere un altro po di dettaglio ok ragazzi allora dopo aver lavorato come un elfo domestico per tipo un'ora e mezza circa sono riuscito a completare la costruzione intanto grazie server che ci salvi il mondo ragazzi vi ricordo ancora una volta passate in descrizione link di nitrado per acquistare pure voi un server come questo ora mancano giusto gli ultimi due dettagli che però devo andare a fare praticamente qui e qui quindi adesso dovrò togliere tipo prima la shulker box è volata di sotto lo sapevo mettere qui il dettaglio e magari facciamo tipo in questo modo non ve lo voglio ancora spoilerare raga per questo sto cercando di fare tutto in maniera molto delicata molto è ok avete capito per riuscire a non spoilerarvi la struttura allora adesso dobbiamo fare questo trick tipo tolgo l'acqua metto il bottone e mi butto nell'acqua quella che sta già cadendo ok e si scende eccellente ah no la pila la pila la pila di terra la pila di terra via via non ci ho pensato no raga no raga problematico 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 ok 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 probabilmente avrete già visto qualcosa della struttura adesso cerchiamo di oh mio dio oh mio dio oh mio dio che che bordello se riesco a tirarla giù tutta quanta in questo modo non so voglio una medaglia molto bene siamo quasi arrivati a terra così posso recuperare pure la mia shulker box della crafting sinceramente non me ne frega molto ma della shulker box shulker box sì perché comunque c'erano dentro un botto di materiali e poi voglio farvi assolutamente vedere la struttura perché sinceramente non l'ho ancora vista da lontano quindi vederla pure io perché per ora l'ho vista soltanto da vicino e al massimo da una quindicina di blocchi di distanza mentre piazzavo la terra come impalcatura come mio solito quindi capite bene che sono anch'io in hype per vedere il risultato finale ce la faccio tipo a riprendere l'effetto un'ultima volta senza creparci sì molto bene andiamo a terra ragazzi missione compiuta la shulker box eccola qui perfetto ok abbiamo anche la crafting proprio eccellente aspettiamo che l'acqua qui si ritiri anzi no aspettiamo sta ceppa voglio assolutamente andare a vedere la struttura finita raga sono in un hype incredibile ci ho messo veramente tanto a costruirla quindi spero che sia venuta bene come minimo adesso tipo avrò missato un blocco avrà qualcosa di failato malissimo failato malissimo come diamine parlo non lo so comunque siamo pronti a vedere la cosa più incredibile di sempre ragazzi infinity war il primo edificio o comunque struttura e dedicata infinity war è terminata andiamo a vederla andiamo a vederla piano vediamo com'è la stiamo per scoprire oddio no non ve la faccio vedere ci vediamo in un prossimo episodio no non è vero non sono così troll dai andiamo a vederla boom wow wow raga è fichissima è fichissima guardate di che ho messo pure vedete dove c'è la torcia dell'iron farm vedete ho messo pure un pezzetto di vetro con una torcia di redstone che ho recuperato alla base per creare tipo il finestrino no dove si pilota tutta quanta sta roba gigante guardate quanto è è mastodontica è gigante ed è anche abbastanza proporzionata rispetto al resto della base non è eccessivamente grande ci sta fatta così raga è però è fichissima poi il fatto di averla illuminata all'interno rende veramente da dio allora voglio andare a vederla di giorno di notte sicuramente è la situation in cui rende meglio però voglio anche vederla di giorno per darmi un'idea di come perché ho ancora sulle litra per darmi un'idea di come risultano i dettagli e comunque tutta l'intera struttura una volta che c'è la luce del sole ma quindi andiamo fuori usciamo da questo buco di casa che effettivamente è minuscola me l'avete fatto notare ogni tanto cioè me lo fate notare ogni tanto che è veramente minuscola però fa niente e non si vede niente bene allora cerchiamo di avvicinarci un pochino di più più che altro vi voglio fare notare i dettagli fatti con gli scalini ecco vedete ho praticamente alternato questi scalini a creare una sorta di gigantesco ingranaggio alternandoli poi con le fence di cui ecco lì vedete la torcia fra l'altro ho messo anche dei drop dei dropper degli hopper le trammogge per imparare per intenderci gli imbuti diciamo per aggiungere ulteriore dettaglio altri scalini da quella parte vediamo se riesco a fare questo piccolo parkour ottimo passiamo un attimino vicino al cimitero da qua ragazzi è veramente inquietante sembra veramente che si stia per schiantare sopra il cimitero con le due zanne di elefante fatte in cobblestone guardate come è è cioè è mastodontica è bellissima ragazzi è veramente ma sono anche contento perché è abbastanza dettagliata cioè oddio si è vista da vicino no però una volta che la vedi da lontano essendo che tipo le texture dei vari blocchi vanno a mezzare l'una con l'altra tipo si si mescolano e qui vanno tipo a mescolarsi l'una con l'altra creano un effetto decisamente gradevole da vedere cioè vedete spicca tantissimo il magma blocca ma veramente tantissimo che poi è quello che diciamo era l'impero importante fare cioè far risaltare il nucleo di questa di questo anello di questa sorta di astronave aliena è qualcosa di veramente fichissimo ragazzi soprattutto il fatto che possiamo vedere da dietro all'iron farm non so la rende ancora più maestosa cioè guardate quanto è bella ragazzi veramente è fichissimo ma è veramente fichissimo sto un tot in fissa per sta cosa ma comunque io spero che questo video vi sia piaciuto scusate se è venuto un pochino più breve del solito ma non ho molto tempo onestamente e quindi va così mi raccomando se non avete visto il video che è uscito oggi alle 14 o alle 15 non so ancora quando lo calicherò vale a dire beyond two souls recuperatelo è il secondo episodio quindi se non avete visto il primo magari guardate il primo e poi il secondo che è uscito oggi mentre per il momento è tutto io vi saluto lasciate un like qualora questo video vi sia piaciuto commentate condividete iscrivetevi al canale passate in descrizione che c'è il link di nitrado per acquistare un server come questo pure voi e ci vediamo in una prossima puntata magari lavoreremo alla zona musea nella prossima e niente I'll see you next time